I venti di guerra soffiavano da qualche giorno e precisamente da sabato scorso quando Mario Pietracupa, ex ADC, annunciò il collegamento della sua lista Rialza di Molise al candidato presidente del centro-sinistra Paolo Frattura. Nelle ultime ore alcuni esponenti del PD avevano preso le distanze dall'intesa ma Ruta e Leva avevano incassato la delega piena dall'Assemblea regionale del partito per allargare la coalizione ai moderati. Ieri sera invece nel corso dell'Assemblea di Selle, alla presenza del responsabile nazionale del partito Ciccio Ferrara il vento si è trasformato in tempesta e a stragrande maggioranza l'accordo con Pietracupa sottoscritto anche dal segretario regionale Candido Paglione è stato di fatto rigettato. Io credo che non è un mal di pancia dentro Selle, c'è un popolo intero che sta a sinistra e che non condivide questa ipotesi perché ad oggi parliamo di ipotesi. Si tratta ora di mettere insieme queste contestazioni e si tratta di lottare affinché il centro-sinistra eviti questo abbraccio mortale per la sinistra stessa. Secondo lei le possibilità di vittoria sono intatto oppure c'è qualche rischio? Ma io credo che il centro-sinistra così come era e così come credo dovrà essere credo che aveva e ha delle buone chance per vincere. Io credo che per vincere dobbiamo mettere in campo idee, dobbiamo ridare l'entusiasmo che il Molise possa davvero cambiare. Per cui credo che questo è il punto. Non è altro. Io non credo che mettendo insieme sigle o facendo accordi strani si possa vincere. Sì, puoi anche vincere, però il Molise perde. Al termine della riunione l'Assemblea di Sinistra, Ecologia e Libertà ha confermato il sostegno a Palofrattura e al progetto politico di centro-sinistra, ma ha richiesto un incontro urgente agli altri partiti della coalizione per esprimere la propria forte preoccupazione rispetto all'intesa con le forze centriste che potrebbe, hanno detto, inficiare il profilo politico, culturale e programmatico dell'intera coalizione.